Alcide De Gasperi è uno di quegli uomini politici di cui abbiamo ancora oggi una grandissima nostalgia. C'è una sua frase celebre che viene spesso citata, un politico pensa alle prossime elezioni, uno statista pensa alle prossime generazioni. Ecco, De Gasperi era un uomo che pensava alle generazioni del futuro, ho cominciato a pensarci quando negli anni 20 fu fatto prigioniero dei fascisti, poi si rifugiò in Vaticano e in tutto quel lungo periodo oscuro di dittatura De Gasperi lavora per costruire un dopo, per costruire un riscatto per l'Italia, un futuro. E poi viene la fine della guerra, viene la liberazione, De Gasperi è il leader politico della democrazia cristiana, che partecipa da protagonista a tutte le grandi fasi del dopoguerra, quindi il referendum, la costituzione, le elezioni del 48, il piano Marshall e poi la ricostruzione materiale, perché l'Italia era un paese con le macerie vere, con i bombardamenti, con la miseria. De Gasperi ci aiuta a uscire da questa miseria e come lo fa? Anche ponendosi sul piano internazionale come un uomo credibile. L'Italia non usciva bene dalla guerra per tanti motivi e De Gasperi riesce a tornare ad attrarre sull'Italia tante buone intenzioni, tanti buoni sentimenti perfino. È un uomo che contribuisce in modo determinante ad ancorare l'Italia al mondo occidentale, in un momento in cui il mondo era diviso in due. Ci garantisce la democrazia, la libertà, la ripresa. È un uomo di cui nessuno ha mai potuto dubitare quanto a rettitudine e onestà. Andava in giro con un cappotto rivoltato, si concedeva vacanze più che modeste nel suo Trentino e lavorava per il suo paese. Ecco, dobbiamo aggiungere ancora qualcosa per dire perché abbiamo nostalgia di gente come De Gasperi. No, non dobbiamo aggiungere nulla.